Bentornati a Trame Raccontate Male, oggi raccontiamo male 1830 circa, in una città come Parigi, nota per gli inverni miti, stiamo assistendo a un inverno particolarmente rigido Quattro amici vivono in una soffitta fredda e umida Un pittore, un poeta, un filosofo, un musicista Tutta gente che voglia di lavorare saltami addosso Fa un freddo porco Fa freddo fuori Hai voglia, si gela E il poeta Rodolfo capisce finalmente che il valore artistico della sua ultima creazione non vale alla morte per ipotermia Sceglie saggiamente quindi di bruciarla nel caminetto Ma essendo un poeta e non uno scienziato ignora che qualche foglio di carta brucia per ben poco tempo Con l'unica consolazione di aver distrutto una creazione artistica di cui il mondo farà serenamente a meno Riprendono tutti a battere i denti La casa è gelata Entra all'improvviso Shonar, il musicista, che apparentemente è l'unico che cerchi di portare un qualcosa di concreto a casa E figurati gli altri Con Shonar arrivano cibo, vino, legna e un po' di quattrini Che ovviamente nelle mani di questi per di giorno dureranno Come in gatto un tangenziale Ora, come è riuscito Shonar a recuperare tutto questo ben di Dio? Fate attenzione perché sembra la trama di un film dei Monty Python Un lord inglese infastidito da un pappagallo che ha il suo vicino al piano di sopra Ha pagato Shonar perché suonasse fino a provocare la morte del pappagallo Ok, che Shonar suonasse male ci può anche stare Ma l'utilizzo della musica come mezzo di esecuzione capitale non l'aveva ancora sentito Oh, Shonar ha suonato per tre giorni ininterrotti Ma non ci crederete mai che il pappagallo non moriva E allora lui lo ha avvelenato Studi musica tanti anni, un po' però sono soddisfazioni Neanche il tempo di iniziare a gozzovigliare E si presenta all'uscio l'anziano padrone di casa Che, pensate che... Viene a chiedere l'affitto Dato che l'ultima volta che glielo hanno pagato In Francia c'è ancora Asterix I quattro, dopo aver l'illuso che verrà pagato Lo torlupinano E commettendo un chiaro caso di circonvenzione di incapace Lo liquidano in malo modo Quattro galantuomini I soldi per l'affitto non li hanno voluti tirar fuori Ma a sperperare al quartiere latino In amenità e cibi che non dovrebbero permettersi Sono dei campioni Mentre Tre si avvia per la strada Rodolfo si ferma a finire un lavoro E poi non si dica che gli artisti non lavorano mai Bussa alla porta un'altrettanto infreddolita E squatrinata fanciulla di nome Mimi Rodolfo la fa entrare e i due si conoscono Non prima però che lei manifesti palesemente I sintomi della tubercolosi Allora molto in voga E anche un attimo conteggioso, aggiungerei Rodolfo ci prova subito con l'unica arma di seduzione A disposizione di un poeta spiantato Le chiacchiere Perché mediamente su una giovane un po' inesperta La figura dell'artista fa sempre effetto Finite le charle Tocca a Mimi presentarsi Ora Quelli che pensano che Mimi sia una giovane innocente E libata ragazza E per la verità è quasi sempre così Che viene rappresentata in teatro Non hanno letto bene il libretto Quindi l'ho fatto io per voi Leggiamoli insieme con un minimo di attenzione critica Mi chiamano Mimi Ma il mio nome è Lucia Già questo dovrebbe farci venire dei dubbi Cioè se si chiama Lucia Perché la chiamano Mimi? Ma soprattutto Chi la chiama Mimi? Vivo sola, soletta E già con questa affermazione Potremmo farci un'idea abbastanza chiara Della scarsa moralità della fanciulla Una ragazza che nel 1830 vive da sola Ma credete che fosse normale? Non basta Non vado sempre a messa Vostro onore Qui c'è un classico caso Di una ragazza poco virtuosa Molto frivola E dai costumi almeno discutibili E chiudiamo vostro onore Mi chiamano Mimi Il perché non so E te lo dico io È il nome di battaglia Nonostante questo Nonostante Rodolfo ci provi E nonostante il caminetto Grazie a Shonar Abbia timidamente ripreso a funzionare Le condizioni termiche Scoraggiano ancora qualunque ipotesi Che contempli Levarsi i vestiti da dosso Mimi quindi si aggrega la compagnia E fa intendere a Rodolfo Che a ritorno qualcosa ci scapperà Forse Secondo atto Quartiere latino I quattro fresconi Con altraino Mimi Sperperano i già pochi soldi Che hanno Comprando Tutto ciò Che di più inutile Riescono a trovare Ricapitoliamo Non hanno i soldi per mangiare Riscaldarsi E pagare l'affitto Ma si siedono a gozovigliare Da Momus Non esattamente Il McDonald's Di quei tempi Ma vediamo come questi Dissennati giovinotti Spendono i soldi Faticosamente guadagnati Da Shonar Con il pappagallicidio Il filosofo Colline Compra una fondamentale pipa E con i soldi di Shonar Regala a Shonar Io e Michelino Vogliamo donare Tutti i soldi Di Michelino Un utilissimo corno da caccia Stonato Marcello si butta fra le braccia Di un gruppo di ragazze Che così Di primo acchitto Non sembrano esattamente uscite Da un convento delle Orsoline Chi vuol donna in allegra Un po' d'amor Facciamo insieme A vendere e a comprare E Rodolfo? Rodolfo compra per Mimì Un'utilissima cuffietta rosa Che con 12 gradi sotto zero Può sempre tornare comoda Mimì non solo sta andando A cena a scrocco Non solo ci ha rimediato La cuffietta rosa Oh, roba firmata eh Ma addocchi anche un gioiello Che per fortuna È decisamente fuori portata Per Rodolfo Altrimenti l'idiota Gli l'avrebbe comprato senz'altro Rodolfo all'accanto suo Conosce Mimì da 20 minuti E già comincia a dargli il tormento Con le sue menate di gelosia Nel frattempo I cinque sconsiderati Ordino una cena Degna di un matrimonio pugliese Marcello vede la cuffietta Che Rodolfo ha regalato a Mimì La dinamica dell'acquisto È ilarità allo stato brado Mimì dice a Marcello Parlando di Rodolfo Da tanto tempo Tal cuffietta È cosa desiata Egli ha letto Quel che il core asconde Mimì Guardami in faccia Mi stai dicendo Che passeggiavate per caso? E Rodolfo ha capito Senza che tu Chiedessi niente Siete per carità Che tu volevi quella cuffietta rosa? Questo mi stai dicendo? Ma sì ci sta D'altro noi noi uomini Siamo famosi Per sapere indovinare Quello che le donne Vogliono da noi Senza che loro ci dicano nulla Mimì ora vediamo Se sai tu indovinare Quello che Rodolfo vorrebbe da te Il rompe nella piazza Musetta Vecchia fiamma di Marcello E di qualche altro Centinaio di giovanotti Musetta infatti È nota A tutti gli astanti Per essere una donnina Dei costumi Alquanto disinvolti E oggi si accompagna Ricco e anziano Al cindoro Al cindoro Ma dove l'avete preso Un nome del genere? Da un'opera di Rossini Musetta fondamentalmente Ha due hobby Fa la rosa dei venti Gira e muta Soventi Ed amanti ed amore Ovvero detto in maniera Un po' meno elegante Forbita È proprio un bel puttanone E due Cercare di far in giro Rosire Marcello Compito peraltro Di disarmante semplicità Al culmine Di questa pubblica seduzione Musetta finge Un crampo al piede Solo per mostrare In pubblico Lì davanti a tutti La caviglia Per dire Ok noi oggi Ridiamo di questa cosa Ma ai tempi La caviglia era Tremendamente lussuriosa Cioè gli uomini Vedevano una caviglia Non capivano più niente Mentre quel povero Mentecato di Alcindoro Si allontana Per comprare Un paio di scarpe A Musetta Questa si riappacifica Con Marcello E i due tagliano La corda insieme Non prima di aver lasciato Ad Alcindoro Da pagare anche Il conto dei bohemian Le matte risate Terzo atto Sono passati Un paio di mesi E le nature Di tutti Sono venute fuori Con Asci turno Un po' mori Riguacciato Marcello e Musetta Stanno insieme Ma continuano A regalarsi Reciproci tradimenti E infinite litigate E la convivenza Tra Rodolfo E Mimì Si è rivelata Insostenibile Vi ricordo Che lui Le faceva le menate Dopo 20 minuti Che si conoscevano Pensate che pesantezza Dopo due mesi La tubercolosi Di Mimì In più È peggiorata Sensibilmente Marcello e Rodolfo Rodolfo dice Che la gelosia In fondo è una scusa La vera ragione Per cui vuole lasciare Mi Mimì È che lei È condannata Dalla tubercolosi E lui non può Permettersi Di mantenerla E di dedicare Le cure Di cui avrebbe bisogno La mia stanza È una tana squallida Il fuoco Ho spento Ehi genio della finanza Prova a vedere Se la confietta rosa Ti torna utile adesso I due quindi Pur amandosi Decidono di lasciarsi Poi però Cambiano idea E decidono di lasciarsi In primavera Perché lasciarsi In inverno E triste Mentre Alla stagione Dei fior È tutt'altra cosa Vuoi mettere Passa ancora il tempo E siamo nella soffitta Dell'inizio L'avranno pagato L'affitto? Le due coppie Si sono lasciate Musetta Continua a aver La coscia facile Mimì invece Si è messa Col viscontino Di cui Rodolfo Era geloso E allora Forse tutti Tutti i torti Non li aveva Mentre i quattro Piscuani Sono lì a cazzeggiare Musetta Inrompe Nella soffitta Con Mimì Che è in fin di vita Ha lasciato il viscontino Per morire Fra le braccia Dell'amato Rodolfo Nessun pappagallo È stato maltrattato Nelle riprese Di questo video Ci vediamo La prossima trama Raccontata male Forse